In questo video faremo vedere come realizzare il classico croissant a sfogliatura classica vi farò vedere come realizzare le pieghe a mano come già ho fatto in altri miei video però questo video ho spiegato con la mia voce sotto come vi avete fatto la richiesta in tanti è tutta un'altra storia come diceva il grande Pino Daniele andremo ad impastare in planetaria e poi facciamo le pieghe a mano con la stesura a mano e il taglio dei cornetti beh che dire più vai con la sigla salve a tutti amici benvenuti nel mio angolo di pasticceria oggi faremo i classici croissant che troviamo in tutti i bar e nelle pasticcerie il classico croissant sfogliato con le tre pieghe classiche utilizzeremo come vi ho detto prima un panetto che possiamo trovare nei supermercati il classico da 250 grammi in questo caso abbiamo aggiunto un'altra piccola parte per arrivare ai grammi che ci occorrono in questa ricetta andiamo ad impastare in planetaria per avere un'incordatura bella tenace per avere un cornetto ben sfogliato e poi andiamo a dare le pieghe con la stesura a mano mi raccomando armatevi di pazienza e di forza perché è una cosa che viene fatta un po' a lungo termine però viene un cornetto proprio uguale praticamente a come se lo facessimo in sfogliatrice mi raccomando andate a guardare sempre le mie ricette e altre mie ricette dei cornetti croissant e prodotti da prima colazione adesso compare la schermata bianca che vi indirizzerà alla mia playlist con tutti i video per i cornetti e altri prodotti da prima colazione ovviamente come vi dico sempre vi dovete armare degli utensili che servono attrezzatura che serve per rendere un prodotto ancora più semplice in questo caso io ho usato un matterello bello spesso in modo tale da non fare tantissima fatica nella stesura adesso andiamo a vedere questa bellissima ricetta allora la ricetta per questi croissant sfogliati cornetti sfogliati è una dose per 10-12 cornetti da circa 100-110 grammi abbiamo 500 grammi di farina manitoba con 13 a massimo 14 grammi di proteine meglio 12 che 15 proteine troppo tenace e non va bene per questi cornetti 75 grammi di burro, 75 grammi di zucchero semolato, 10 grammi di sale fino, 75 grammi di burro interno 180 grammi di uova intere, circa 360 grammi di acqua a temperatura ambiente lievito di birra fresco 10 grammi aromi a piacere mettiamo o la buccia di limone arancio o aroma croissant vedete voi 280 grammi di burro per la sfogliatura granella di zucchero e cioccolato a piacere per esterno abbiamo un forno statico a 190 per 25-20-25 minuti massimo per prima cosa mettiamo la farina in planetaria il sale e lo zucchero il burro vedete le uova e acqua andiamo a sbriciolare i 10 grammi di lievito ovviamente questo è un cornetto che impiegherà dalle 10-12 ore di lievitazione prima della cottura dopo la formatura se aumenterete il lievito ovviamente anticipate il tempo di lievitazione vedete andiamo a mettere tutti i liquidi e il lievito nella planetaria azioniamo la planetaria a marcia media non molto molto bassa altrimenti becherà un sacco di tempo e aspettiamo che l'impasto diventi ben incordato e liscio ci impiegherà circa un 20-25 minuti per incordarsi alla perfezione vedete che all'inizio ovviamente c'è da ancora mescolare burro e quant'altro vedete ancora in questo caso c'è ancora burro che si deve mescolare bene facciamo impastare in questo modo con il gancio ovviamente abbiamo messo il gancio se mettete la foglia va troppo sotto sforzo la planetaria e rischiate di romperla mentre con il gancio vedete è molto soft quindi aspetterete che l'impasto diventa liscio e ben incordato vedete già in questo caso vediamo come si è incordato alla perfezione quasi vi ripeto questa operazione voi al limite quello che potete fare ogni tanto fate scendere l'impasto in basso fermando la planetaria e poi reazionate la planetaria vi dicevo questo impasto vedete dopo circa 15 anche 20-25 minuti massimo il nostro impasto è pronto vedete è molto tenace ed elastico vado a estrarre dalla planetaria e lo vado a mettere in un recipiente d'acciaio e dovrà puntare più o meno un'oretta non avrà proprio una grande levitazione perché l'impasto è molto tenace e la quantità di lievito è molto ridotta vedete vado a fare una piccola pirlatura vedete in questo modo vado a arrotolare l'impasto e lo vado a mettere in questa ciotola d'acciaio vado a coprire con pellicola trasparente vedete e lo faccio puntare per almeno un'oretta dopo un'oretta l'impasto come al solito non è cresciuto perché ci sono pochissimi grammi di lievito all'interno ma è molto riposato vedete lo vado a stendere con le mani e devo inserire il pezzetto di burro all'interno vedete a questo punto ho preso il pezzo di panetto di burro classico da 250 grammi del supermercato burro di latte ovviamente ho messo gli altri 30 grammi di burro sotto che ci servono 280 grammi non facciamo vedere le marche del burro che non siamo abilitati a fare sponsor vedete andiamo a fare andiamo un po' a stendere col matterello burro questo è ancora burro freddo e difficolifero non è a temperatura ambiente perché deve essere un burro ben freddo vado a fare così vedete una specie di chiusura a pacchetto per poi dare un'altra stesura all'interno in modo tale che non fuoriesce e rimane diciamo più o meno al rettangolo vado a stendere in tutti e due versi in modo tale da ottenere come dicevo un rettangolo per inserirlo nell'impasto vado a fare anche un po' con le mani è possibile e vado di nuovo a chiudere per stenderlo vedete vado a chiudere in questo modo vi ripeto questa operazione è molto molto importante per la riuscita perfetta diciamo delle pieghe altrimenti avremmo dei cornetti che il burro se ne va per fatti suoi e l'impasto andrà per un'altra parte e quindi occorrerà dare un'altra piega e non va bene a livello di struttura interna del cornetto del croissant non va bene perché le pieghe dovevano essere tre e fatte in modo sistemato in modo tale che con tre pieghe andiamo sufficientemente a distribuire il burro in tutte le parti del croissant ecco adesso vedete si è fatto un bel rettangolo e lo vado ad inserire nell'impasto tolgo la carta vedete più o meno non è che è proprio alla perfezione deve essere però quando più perfetto è possibile vedete vado a fare l'impasto più grande di almeno tre centimetri lateralmente per tutto il rettangolo e vado ad inserire il pezzo di burro centralmente al rimasto un po' di burro attaccato lo vado a mettere all'interno vedete ecco qua e voilà vado a simulare diciamo delle plate di burro classiche che troviamo nelle pasticcerie mini in questo caso vi ripeto questo è burro di latte quindi se usate margarina vegetale e quant'altro non so sempre del supermercato non so il classico panetto quello là che vi ho fatto vedere da 250 grammi non vi posso assicurare la riuscita perché la margarina paradossalmente a un certo punto a temperatura ambiente è vero che siamo ancora in inverno ma a temperatura ambiente può diciamo sciogliersi troppo e non va bene poi diciamo nel nel cornetto vedete vado a mettere il pezzo di burro così centralmente vado a tirare i lati e quei altri due lati laterali perfettamente e vado a chiudere in questo modo e il panetto è pronto per essere steso vado a mettere un po' pizzico di farina non esageriamo altrimenti facciamo gli gnocchi anziché fare i cornetti una punta di farina e iniziamo a dare le pieghe chiuderemo tre volte al libro ossia pieghe a tre si dice gergo pasticceria andiamo a chiudere tre volte a tre la classica stesura da cornetto croissant vedete vado a stendere sia lateralmente che in in orizzontale che in verticale deve essere più orizzontale che verticale l'impasto e vado a chiudere a tre vedete ossia al libro e andiamo a ripetere quest'operazione per tre volte ovviamente con il riposo di mezz'ora circa per ogni volta che diamo le pieghe vedete ogni volta che finisco una piega metto se necessario in frigorifero e poi estraggo dopo mezz'ora e do l'altra piega in questo caso diamo un'altra piega al libro a tre come la prima vedete con le mani inizio a schiacciare un po' l'impasto sempre con l'aiuto della farina li vado a stendere sempre in orizzontale e in verticale sono dei pezzetti ogni tanto nel ripasto vado a togliere sempre orizzontalmente e verticale orizzontale e verticale da ottenere sempre un rettangolo con i due lati superiori e inferiori più larghi e lateralmente due lati un po' più piccoli deve essere un rettangolo vedete in questo modo e vado a chiudere sempre al libro questa è la seconda volta ecco e vado a chiudere sempre con foglio di carta da forno e se necessario vado a mettere in frigo se si è riscaldato troppo l'impasto o fa caldo diciamo che in estate troppo questa operazione è molto molto difficile da fare a meno che non lavorate in frigorifero ma questa temperatura d'inverno è ideale vedete dopo un'altra mezz'ora l'impasto è ben riposato e vado a dare la terza piega do la piega sempre allo stesso sistema sempre lateralmente deve essere più lungo vedete vado una ogni tanto orizzontale la maggior parte vedete le do in verticale per rendere sempre il rettangolo sempre con l'aiuto di un po' di farina non esageriamo altrimenti l'impasto non si stende più perché diciamo non è che ci vuole tanta farina è un impasto abbastanza asciutto vedete quando l'impasto è riposato fate passare la mezz'ora di riposo andrete meglio a stendere quindi non ci sono problemi se non aspettate farete una fatica enorme vedete sempre delle botte di matterello anche orizzontale più verticale e orizzontale e vado a chiudere per la terza volta finale vedete sempre al libro e vado a chiudere con foglio di carta da forno per far riposare almeno mezz'ora se non tre quarti d'ora quasi un'oretta per la formatura dei cornetti ecco vado a dare una piega con le mani in questo modo ecco andiamo a fare la stesura finale vi ripeto l'impasto più è riposato e più andrete bene a stendere vedete io uso un po' di farina per agevolare la stesura non troppa il giusto di farina altrimenti veramente non si stende più dopo vedete dobbiamo ottenere un rettangolo sempre largo più o meno un 60 65 cm è lungo sui 27 28 cm cioè l'altezza del rettangolo deve essere 27 28 cm la lunghezza in orizzontale deve essere più o meno sui 65 70 cm vado a stendere vedete continuamente vi ripeto se avete un matterello come il mio sarete molto agevolati nella stesura perché è molto spesso ed è molto maneggevole vedete vado a dare delle pieghe in orizzontale ecco vado a raddrizzare ogni tanto il rettangolo perché diciamo che con l'altezza del rettangolo sarà l'altezza del cornetto cioè la lunghezza del triangolo del cornetto quindi facciamo una misura esatta per non farlo troppo lungo o troppo corto più o meno sarà di 27 26 27 cm l'ho misurato e dobbiamo avere dei cornetti che dovranno pesare più o meno sui 100 110 grammi ognuno in questa ricetta ne sono usciti 11 da 100 110 grammi più o meno vedete otteniamo un rettangolo man mano in questo modo il rettangolo finale come ho detto già le misure dovranno essere di 27 di altezza e più o meno 60 65 di lunghezza voi pesate ovviamente ogni prodotto vedete se arriva a 100 110 grammi è il peso ideale vedete andiamo ogni tanto a dare l'impasto a stesura finale vedete adesso andiamo a tagliare i triangoli per il croissant vedete l'altezza del rettangolo sarà anche la lunghezza del cornetto io con l'aiuto di un vedete una girella tagliapasta sia per le chiacchiere che anche per la pizza vado a creare dei triangoli l'ho pesati più o meno pesano 600 110 grammi ognuno ovviamente se qualche triangolo risulta meno di 100 grammi andiamo a mettere un pezzo come ho fatto io che uno era più grande vedete vado ad arrotolare come il classico croissant la punta la rimango attaccata al tavolo e la base vado ad arrotolare su se stessa vedete in questo modo e così via attacco la punta sul tavolo e mi tiro la base ecco in questo modo vedete sono usciti 11 croissant più o meno con il peso ci troviamo e continuo così per tutti i triangoli vado a chiudere tutti quanti allo stesso modo vedete e voilà chiusi tutti i cornetti li vado a mettere in una teglia vedete con carta da forno prima ne ho messi 9 nella teglia poi siccome erano 11 sono rimasti due da parte ho fatto prima la teglia da 9 guardateli che belli e poi dopo ho fatto da 8 e un'altra teglia da 3 piccola in modo tale da agevolare anche la cottura ecco vedete come vi dicevo ho fatto una da 8 e una da 3 sono 11 pezzi e adesso li andiamo a mettere in un ambiente non molto freddo un ambiente caldo almeno a 20-25 gradi e dopo 12 ore guardate la sera io ho l'ideale la sera prima farli verso le 5 e le 6 e alle 6 del mattino successivo guardate sono levitati che spettacolo e li vado a spennellare con un uovo ad rompere un uovo in una ciotolina vedete eccoli qua mettere un pizzico di sale nell'uovo vi dico che il pizzico di sale nell'uovo oltre ad essere diciamo che dà sapore all'uovo va anche a togliere il nervo all'uovo lo va un po' a cuocere diciamo tra virgolette e toglie il nervo che ci sta nell'albume in modo tale da essere una spennellata di uovo non che è cadente parecchie volte vedete che l'albume si separa invece in questo caso con il sale abbiamo un uovo più liquido non lo so se lo sapevate già ecco vado a spennellare in questo modo tutti i cornetti e andiamo a decorare a piacere se volete potete rimanere anche normali vado a mettere canella di zucchero su alcuni cornetti su altri vado a mettere un po' di scaglietta di cioccolato se in tal caso vi dovete fare a cioccolato vi assicuro che anche i vuoti con la scaglietta di cioccolato sono buonissimi sopra ecco in questo modo e voilà e poi i tre cornetti sono rimasti vuoti senza neanche la canella sopra e adesso andiamo a infornare a 180 gradi in forno statico per circa 20-25 minuti al centro del forno non troppo basso e non troppo alto dopo 25 minuti ecco i nostri cornetti guardate che spettacolo sono pronti un odore un odore pazzesco nella nella casa ovviamente e qua da cuocere ho cotto anche gli altri tre restanti e adesso dopo almeno mezz'ora di raffreddamento vedete che spettacolo i nostri cornetti vado a fare un bel vassoio giusto per farvi venire la voglia di mangiarli prima di tutto e anche a me ecco e voilà i nostri cornetti guardate che belli sono pronti a dopo per l'assaggio vado a fare il mio assaggio questo con scaglietta di cioccolato ragazzi se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un bellissimo like iscrivetevi al mio canale seguitemi sempre sui social facebook e instagram lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti se veramente volete sostenere il mio canale condividete un mio video a piacere anche questo che state guardando sulla vostra pagina facebook o di instagram ragazzi un bacio a tutti alla prossima ricetta